Buongiorno Daedo, in questi giorni stiamo vedendo una diaspora di utenti da Twitter a Mastodon preoccupati dalle politiche creative del nuovo proprietario e su Mastodon naturalmente ci sono delle altre preoccupazioni di natura più tecnica ma anche sulla protezione dei dati che in Europa è un tema molto caldo e proprio l'Europa, nella figura del garante europeo della protezione dei dati aveva lanciato in questo senso un'iniziativa che, nel mio caso almeno, era passata inosservata non so quanti l'avessero intercettata e che è emersa in questi giorni su Hacker News sto parlando di EU Voice, dichiarata formalmente come la piattaforma di microblogging ufficiale delle istituzioni e agenzie europee basata su Activity Pub che ricordo è un protocollo di comunicazione open e decentralizzato per creare social network ed è uno standard V3C dal 2018, implementato in questo caso proprio con Mastodon quindi in sostanza EU Voice è un'istanza Mastodon mantenuta ufficialmente dalla Commissione Europea e lanciata ad aprile di quest'anno dove appunto account istituzionali europei sono presenti condividono informazioni, testi, video, immagini parlo per esempio della Commissione stessa, l'Agenzia dei Diritti, la Corte di Giustizia l'OSPO, cioè l'Open Source Program Office che è l'ente che supervisiona la strategia open source dell'Unione Europea poi anche singoli individui facendo parte delle istituzioni per un totale di 20 account presenti in questo momento sull'istanza insomma un canale ufficiale di comunicazione, di microblogging in questo caso creato su protocolli e software open e mantenuto dalle istituzioni europee stesse che a questo punto potrebbe crescere ancora in futuro non è possibile per chiunque creare un account su questo nodo perché appunto è riservato alle istituzioni ma essendo parte del network di Mastodon tutti gli account possono essere seguiti e ci si può interagire dalle altre istanze chissà se in futuro può essere pensabile di avere dei nodi di questo tipo su base territoriale mantenuti con fondi pubblici potrebbero essere canali di comunicazione importanti non mediati da gatekeeper privati senza pubblicità e senza il trattamento allegro dei dati personali secondo me è uno scenario tra i più interessanti che vedo quando penso alla sostenibilità di questi progetti so che ce ne sono già di questo tipo però un ampliamento potrebbe essere notevolmente interessante aggiungo anche che insieme a EU Voice è stato lanciato anche un altro progetto sempre su Activity Pub che riguarda invece la condivisione di video e si chiama EU Video questa è un'istanza di Peertube che appunto è un social network basato su Activity Pub che consente la condivisione di video e live streaming e qui ci trovate video istituzionali ufficiali delle agenzie europee insomma vedi il Fediverso sta avendo una discreta impennata quella del supporto pubblico a mio parere è una strada molto buona ci sono però naturalmente tanti ostacoli da superare soprattutto se si vuole pensare di scalare a dimensioni Twitter o Facebook appunto però per il momento ci sono segnali incoraggianti e mi andava soprattutto di condividere con voi la scoperta che ho fatto di EU Voice e EU Video che sono progetti molto interessanti e per oggi ho finito grazie di avermi seguito fin qui stasera chi vuole ci vediamo alle 17 sui canali di Continuous Delivery per parlare di Linux per tutti gli altri appuntamento al prossimo buongiornissimo ciao